Per me si realizza ancora una volta un sogno perché una gara di questo genere è quella che aspettiamo tutto l'anno e tutta una vita per poter raggiungere la partenza. Quindi tutto l'anno è proiettato verso questa giornata, il primo di gennaio, per riuscire a poter cominciare la nostra vera avventura, la nostra passione e andiamo a divertirsi. Ci sarà tanto da faticare, da soffrire, ma le cose saranno tutte superabili con un gran sorriso e tanta felicità. Ancora un aretino alla Dakar, il team Rossi 4x4 in partenza per l'Africa Eco Race Monaco-Dakar, competizione automobilistica che dal 30 dicembre al 13 gennaio si terrà su un percorso estremo che gli appassionati dell'indimenticabile Parigi-Dakar conoscono attraverso Marocco, Mauritania e Senegal. A guidare la Nissan Patrol 4.8 benzina che lo ha già portato fino a Dakar sarà il pilota aretino Stefano Rossi. L'equipaggio a bordo è completato dal trevigiano Alberto Marcon. La mattina se riusciamo già a dormire la sveglia è presto e quindi abbiamo il bivacco in cui riusciamo a fare colazione la mattina e poi di buon'ora subito si parte e affrontiamo tutta la giornata. Diciamo che teoricamente entro la sera e speriamo che questo si avveri dovremmo raggiungere il bivacco della giornata successiva affrontando nel particolare questa manifestazione a una riduzione forte di quello che sono i trasferimenti perché sono pressoché azzerati, spesso nelle tappe riusciamo a partire da arrivare dalla speciale e arriva proprio vicino al bivacco e quindi è tutta speciale e diciamo è tutto puro divertimento perché fare 400-500 km ogni giornata di speciale è per noi la cosa più bella che il trasferimento si riduce a pochissimi chilometri per andare da un bivacco all'altro e poi dopo una volta raggiunto il bivacco speriamo presto e sottolineo si riesce poi dopo a poter fare assistenza e avere qualche ora di riposo per poi essere pronti per la giornata successiva. Per me è la prima esperienza in questo tipo di gare come navigatore, ho già fatto come meccanico l'anno scorso con Stefano e è una grande emozione e ringrazio anche Stefano per darmi questa possibilità e siamo qui ad aspettare di partire per vedere cosa succede, insomma speriamo di essere preparati al meglio e sarà comunque un'avventura e sarà tutto nuovo e da scoprire. Durante una gara di questo tipo bisogna essere pronti a tutto perché non ci sono problemi che non possono uscire possono generarsi e verificarsi problemi di qualsiasi tipo generalmente si spera che non succeda niente di grave però l'assistenza è pronta a qualsiasi cosa da sistemare pezzi rotti quali saldature eccetera, parti meccaniche si spera comunque che non ci siano problemi molto gravi tipo di motore e l'anno scorso è stato sistemato anche un problema di surriscaldamento del motore quindi sono state ampliate le masse radianti, è stata modificata la parte di convogliatori d'aria quindi ci si deve adattare a quello che può succedere nel percorso sostanzialmente. Grazie 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 Grazie